salve a tutti benvenuti in una puntata di questa serie su mlb the show eccoci pronti scusate scusate qualche cosa all'ultimo mi sono accorto che si chiamava qualche cosa comunque eccoci mlb the show terza partita contro i los angeles dodgers dopo una partita diciamo a a dir poco traumatizzante la scorsa puntata speriamo di non fare figuracce proprio 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 come è stata quella di insomma di ieri comunque della scorsa puntata che non mi ricordo quando vanno in onda che sto registrando con un po di anticipo che devo per motivi organizzativi cose devo scusate rumore eventuali cosa devo purtroppo registrarli con un po di anticipo e quindi sono consente a fare allora strasburg faccio otterrare a strasburg e it on questi qua va bene a posto io devo un attimo ok scusate va bene io vi chiedo vi chiedo mi mente scusa vive vi chiedo scusate vi chiedo mi mente scusa state sentendo dei rumori molesti bruttissimi bruttissimi e vi chiedo scusate vi chiedo scusi a riguardo quindi ho provveduto del caricamento per fare tutte queste cose e adesso iniziamo iniziamo non comincia non comincia dicevo non comincia morfeus bene 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 ok abbiamo iniziato benissimo dire very late tra l'altro va bene ok ball al filo ball al filo va bene presa niente very early troppo tanto prezzo tanto prezzo va bene presa eh però gliela prendeva e vabbè secondo out ma mi ha iniziato benissimo io vabbè io eh noooostra ball se la lasciamo una ball se la lasciamo una ball ah aiaiai ai ai aiai ai 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 ok io dovrebbe sembrarmi quasi tipo centrale però ah Presa Due basi Due basi Due basi Ok Diciamo Io non ho ancora avuto modo di vedere Perché quello si metterà davanti Mi scusi Allora Lo dico dopo Ok Presa Bella Bella Punto Si può per il punto Si può per il punto Il punto una zero alla grande Bene bene Dicevo Io non so Cioè Io non ho avuto Non sto registrando questo ancora prima Che voi vediate la puntata precedente Quindi Non so le vostre risposte Sulla domanda del perché Sono successe determinate Cosa Era bolla Era bolla Era maledetto io Ok Ahi ai Eh qua Qua ho fatto comunque bene a girare L'ho sbagliato alla direzione della levetta Ma ho fatto bene a girare Ok 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 Suo Niente Vabbè E niente Vabbè Comunque abbiamo fatto un punto Al primo inning C'è già una cosa carina Ecco Quando ho ricevuto la scorsa puntata A un certo punto Il ricevitore non mi dava più suggerimenti Su dove tirare la palla Era Era Una cosa che sono un po' spaisato Non capito il perché Non ho capito un bug Eccetera Chiedevo mai un bug Era che Era arrivato all'inficoltà veterano E quindi Non mi dava più suggerimenti C'avevo il ricevitore in show Però non lo so Qualsiasi cosa Chiedevo Perché non vedevo I suggerimenti Nei cose Ecco tipo quello Adesso lo vedo Che me la suggerisce lì Eeeh Io ci provo Strasburg Boll Eeeh Vabbè Strasburg Io Ok là Strike E1 Vai Strasburg Falla curva Dobbiamo far curvarla così Curvala Secondo boll Ottimo Strasburg E' incredibile Verificare Come Eeeh Vai Meno male Eliminato E' incredibile Il fatto che I lanciatori che mi stanno Dando più problemi Sono quelli con l'overall Più alto Eeeh Non riesco a capire Ovviamente C'è qualcosa in me Io stavo sbagliando Sicuramente qualcosa Eh Perché Non sono un esperto del gioco Stavo sbagliando io qualcosa Spero Porca miseria Porca miseria Io Indirizzo Una parte La tira In un'altra Vai Ok Secondo Il minuto Meno male Che la prenda un po' così Finisce corta A noi Meno male Perché Fosse un po' più lunga Sto parte Tirassero e la prendessero Bella piena E ora I problemi Sarebbero Seri Eh Oh Niente Allora E' una curva Curviamola Curvola Niente Ok 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 Slider 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 Meno male Bene così Terzo eliminato I primi inning Finito sull'1-0 Oh Va bene Ok 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 Presa No No Vabbè Foul Va bene Ok Presa Va bene Al tempo di riprendere la palla Prendersi un caffè Serersi comodamente su un divano E da lì passarla alla prima base Per eliminazione Va bene Ok Very early Addirittura Presa Dai Ci arrivi Ci arrivi Ci arrivi Oh bene Dai 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 Oh Ci può fare Slider Probabilmente slide Late addirittura Stavolta Bene E' una ball E' una ball E' una ball Marca Trota Ok Ball Ok Sotto Sotto Ball Sotto Bene Ok Ok Che c'è la strike Sereno Serenamente Strike Va bene Ok Oh E' una ball Questa è la ball Questa è la ball Questa è la ball Va bene Porco Ball 3-2 Dai Fai un'altra ball Fai un'altra ball Fai un'altra ball Stiamo a me Ho visto la tira Il giornale di strike Però Devevo fare attenzione Ok Ball Grazie Prima e seconde Pesse Ale Dai Dai Cerchiamo di vendicarci Della scorsa sconfitta Umiliante Eh Dai Mi vibra il pad Tipo battito cardiaco Questa è la Strike Proprio sereno Va bene Ok Ok Ball Va bene Ok 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 Ball E sono due Ok Sapete che Questo lanciatore Forse l'ho letto Lo leggo Eh Ho fatto bene A girarla Comunque Cioè La scelta La La Battura F è venuta male Ma la L'ha pensato L'ho fatta bene No Era Ball Era Ball Era Ball Era Ball Ball Sono Scemo Io Vabbè La prendo Lo stesso Vabbè La prendo Lo stesso Vabbè Ai ai Ball Ok Dai Ok 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 Presa Eh si però Serenamente al volo La prende Vabbè Secondo eliminato 1-0 Va bene Ok Strasburgo Mi raccomando Mi raccomando Strike 1 Ok Ok Palla Ma non stiamo facendo troppe Cuppa Troppo per le curve Vabbè Come strike Va bene Lo stesso Sempre Andiamo sempre Così su di curve Dicevo Andiamo sempre Di curve Basta Giusto Basta Palle curve Giusto Strike Ok Che è una Palla curve 1 Palla curve 2 Palla curve 3 Primo Poi Ecco Come strike Va bene Too fast Sean Sean La puttana Vabbè Terreno Olè Secondo No Primo Eliminato Palla Secondo Primo Il primo Ha fatto Fuoricamp Allora Ok Come strike Va bene Lo stesso E Slider Lì Dai Slider Strike 2 Perfetto Poi Mi scanto Io sono Mi scanto Nella curva Vabbè Non ha Faccio La curva Basta Basta Con la curva Io Devo Tere Di fila La curva Non la Faccio Vai Dai Perfetto Secondo Eliminato A posto Così La Curva Strike Va bene Ok Vuoi fare Una seconda Cupo Basta Basta Strike Non basta Oh Sì Va bene La Tereno Serenamente Al volo A posto Terzo Eliminato Adesso Andiamo Batte E sotto Ok E Va bene Ok 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 Vabbè Ok Ball Vabbè Andiamo Ball Sono due Ok Presa Presa Non è a volo Non è a volo Non è a volo Ci arriva Sereno Prima Prima Passe Ok Va bene Va bene Mi sta bene Ma Morpheus Morpheus Non c'è Morpheus Non batte Morpheus Ah Io L'ho Troppo Presto 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 Il maledetto Bene Bene Allalambu Swing Non lo strike Vabbè Vabbè Ehi Presa Bella Bella Bellissima Ok Questa non vale come fuoricampo Perché Non è andata direttamente fuori Rimbalzato E poi è andata fuori Almeno questo mi sembra di aver capito Dalle regole come sono messe Ecco Cioè Semplicemente Mi vanno avanti tutti Insomma Ognuno prende Avanza di una base Quello che chiedo Penso di aver capito Più o meno Poi non lo so Chiedo sempre a chi ne sa di più Quindi Meglio In merito Ho fatto comunque bene A girare la mazza Fatto comunque bene A girare la mazza Veri early Addirittura Bene Quello Ball 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 Maledetto Ball Ok Ball Tanto Ball Tanto 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 Mi sembrava Ball Questa mi sembrava Bassa Come quelle prima Che erano Ball E ho girato la mazza Vieni Ti ho problemi Con la prospettiva In questo gioco In questo gioco Con il gioco Apre Ok Ok Striker Va bene Ok Pensavo di averlo letto Invece No Ball Ok Va bene Ok Ma era bollissimo Era bollissimo Superball Era bollissimo Via 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 Questa E questa Mi sembrava E stava andando giù Nei non lo Nei non lo capisco Non cerco a farci l'occhio Non lo capisco Non lo capisco Ma no Vabbè Niente Niente Dentro 1 a 1 Peccato Stavamo C'era una buona occasione Di fare qualcosa di buono Foul 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 Serenamente Foul Change up Change Slider Slider Alla Pustelle Dai Domani Io non capisco Perché non ti sta in base Io voglio capire Perché non ti sta in base Ci sarà qualche cosa Di tattica Del Foul Addirittura Con la sborsata così Mi ha fatto il foul Bravo È doppia eliminazione No Ma l'ho preso al volo Avevo preso al volo Quello Avevo preso al volo Ma come Perché non mi da Avevo preso al volo Io non lo Questa non l'ho Capita Io l'avevo preso al volo Sgurg Ok Fa Sereno Serenamente Oh Eliminato A posto Secondo Secondo Eliminato E Un La Strike è uno Ok Poi Una curva Come strike Va bene Lo stesso Qua Far 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 Sereno Sereno Al volo Sereno A posto Terzo Eliminato Si va A Battere Si va In battuta Si va Ascoltare Quest'Aidi Che non ce ne frega Niente Si Aidi Certo Si Aidi Esatto Aidi Va bene Aidi Certo Aidi Ho il capello Ah no Ho il capello Metto Malissimo Porca miseria Vabbè Scusate Va bene Chi batte Suzuki 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 Fammi una bella battuta Suzuki Mamma Era poi Suzuki Suzuki Con la Con la calma Mi sembrava molto più Ball Era ball Ma mi sembrava molto più alta Presa Era per Però 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 Ok Treta Vabbè Oh Vuoi rischi a salvarsi Salvo Bene 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 Dai 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 Ok Mi sembrava molto più giusta palla Io non riesco A capire le proporzioni No Non riesco a capirlo Presa Era ball Ma l'ho presa lo stesso E sta andando comunque bene No 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 Salvo Salvo Prima e terza base salvi Benissimo Dai Oh Oh Dai 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 Ti può fare Ti può fare Ti può fare Ti può fare Dai Presa Male Malapresa Eh Infatti Uh Uh No Punto Bravissimo Bravo Robles Bravo Robles 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 Come ti chiami Come ti pronunciano Comunque bravo Dai 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 Avanti Eh Eh Presa Eh no Paul Paul Va bene Va bene Va bene Eh Ok Ok Pre Ma sei che Schi Che sa Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Oh Vogliamo cominciare Già con una palla curva Vogliamo già dargli modo di pareggiare Mamma mia Strasburg Mamma mia Strasburg Ma porca miseria Strasburg Strasburg Porca miseria Ah Come strike Va bene Eh Yeah Strike 2 Perfetto X L'XL Non mi chiede una curva Come Vabbè No Non la faccio No 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 Quale curva No 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 Curva la cespia Curva Change up Addirittura Sotto Proprio il giorno Apposto Lo vedi che non la gira sempre Questa mazza Che cosa me la fai tirare lì Vabbè che l'ha tirato un luogo completamente Doveva Niente Stiamo mezz'ora qui Ho capito Allora io Stiamo Stiamo qui E Va bene Non c'ho niente Poi Volo A posto Prima Poi Curva Io Strasburg Io Voglio Io voglio Veramente capire Come strike Va bene Lo stesso Io Terza curva Non la faccio No No Io Terza curva Non la faccio Eh Va bene Meglio così Terza curva La La batteva La tirava Chissà Dovido Diregava un altro D'altro fuori Cà Oh Fa 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 Volevo provare Eliminare Curva Ok Va bene Ok Strike Secondo Eliminato Bene così Dai Lì La Ok Change up Mamma mia Strasburg Oh Caspiterina Strike E2 E2 E3 E3 Perfetto Finito il quarto inning Si va al quinto Ora In battuta Per noi Ok E3 Vabbè Eh no 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 Troppo presto Troppo presto Troppo presto Troppo presto E' partito il dito Presa Bella Bella lì Bellissima lì Due basi Si prende Fermati lì Dove sei Fermo Fermati lì Dove sei Ah Bene Poi Ok Siamo un po' Ok Ball Ok 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 No 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 Mi è scappato Ho visto che la bomba Mi è scappato il dito Mi è scappato il dito E Tina E Tina Vai Tina Sì tutti noi Vai Tina Tina Turner Vabbè questa era bolla al pelo Non me ne accorga Ok Questo mi sembrava tanto giù Mi sembrava tanto sotto Sta palla Mi hanno eliminato Tina Turner Mi hanno eliminato Tina Oh A Strubal Finalmente batte Cabela Che ogni volta che toccava a lui Gli cambiava E gli dicevano No ma puoi mettere Il lanciatore A te A battere Ecco E la battuta L'hanno eliminato Instant Però Almeno una battuta L'ha fatta Vabbè E ok Ok Questa mi sembrava tanto esterna Mi sembrava tanto esterna Questa Presa Vabbè Questa era proprio centralissima C'era centralissima Quindi Allora Very late addirittura Proprio tanto tardi Addirittura Vabbè Niente Quinto inning Un po' così Allora 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 Oh signore Heidi Heidi Ti solidano i monti Perché non ti levi dal Io una cosa vorrei fare però Allora Bullpen Posso mandare qualcuno a scandarsi Uno No Do little Mi servirà all'ultimo Hudson Dai Daniel Warm up Riscaldati Daniel Avanti Allora Eeeh Yeah La pu... Vai Dai Oh No Ma no Ma no Perché le hai fatto il piede dalla base Perché Gli hai regalato la base Perché Perché Ma perché Ma per quale motivo Era un eliminato Era un eliminato La porca miseria C'è C'è Aveva la palla Sulla mano E un attimo E un attimo dopo Leva il piede dalla base Dove Dove A soltanto Tenere il piede dalla base Restare lì Vabbè un attimo dopo Un attimo prima C'è Dove A soltanto Tenere il piede dalla base Vabbè E seee Questo è un classico dettaglio Che poi lo pagheremo Ball Quello lì Quello lì Andrà a far punto Io mi conosco La mia sfiga Quello lì Che adesso è in prima base Andrà a far punto Primo eliminato Va bene Eeeh Come strike Va bene Ok Eeeh Eeeh Ah Come strike Va bene lo stesso Change up Lì No Troppo bass Boll Vale Curva lì Strike Meno male Secondo eliminato Va bene Secondo eliminato Ok Dai Eeeh Strike e uno A posto Poi Poi Change up Eeeh Strike e due Dai Un altro strike Un altro strike Un altro strike Un altro Vabbè Curva Mamma mia Quando ogni volta Palla curva Meno male Meno male Meno male Meno male Terzo eliminato Finisce quest'inni Andiamo al sesto Per noi Eeeh Pre Eccolo vedi Questo ricevuto La palla Il piede Anche da un po' Spostato il piede L'ha tenuto Sulla base L'ha tenuto Sulla base Perché i miei Non lo fanno Questo ragionamento Vabbè Ullalala Eh Vabbè Carriesta Sta cominciando A tirare Strike Vabbè Va bene Ma no Ma no Ma no E' straordinariamente Ball Mamma mia Io sto Ma non sto battendo Sto battendo male Sto tour Ball Ok Giustamente C'ha riprovato Gira sempre la mazza Io la tiro Sulle ginocchia E vediamo Che succede Ball Ok Va bene Eeeh 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 Questa mi sembrava La stessa Tipo rasoterra Eeeh Ho problema Con la prospettiva Di sto gioco Ho un problema Ho un problema Terissimo Perché ti ho visto Gioco E questa mi sembrava Pure molto bassa Bolle ma mi sembra Molto più bassa Presta Presa Ma tanto Ma tanto Ma tanto Si sa come deve andare Vabbè Ora lanciamo noi Strasburg Strasburg No vabbè No vabbè no Allora facciamo una cosa Per ora La facciamo Strasburg Per ora Ok Strasburg Ho indirizzato In un'altra parte Perché la tiri lì Però Allora Eeeh La Le La Ah beh E' sereno Sereno Serenamente al volo Serenamente al volo Primo eliminato Ok Sì vorrei andare avanti Ok Dai Noi mi spaventano Quelle curve Mi spaventano Poi Poi c'è Le tiri Veramente E allora Ah Ok Qua Così Strike 1 Va bene Curva Strike 2 Meno male Un'altra curva Avrebbe girato la mazza Teoricamente Ma vabbè Facciamo che va bene No Una terza curva no Una terza curva no Ho sbagliato gli occhi a farlo Oh 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 Eliminato Oh Bene Fast For Fuels La Come Strike Va bene lo stesso Eeeh Una curva lì Che ora ci sta Se prendesse l'area di Strike Ci stava una meraviglia Ma Purtroppo No Di nuovo la curva No Devo smettere Bene Il secondo Basta con le curve Oh Change up Va bene Change up No Strike Va bene lo stesso Attenti Ah faccio qua Ok Tanto La tira La tira lo stesso In zona di bo Io C'è Io Ti No Non ne faccio più Curve Qua Passer Pass Tira la Così Strike Eh E io ogni volta che deve tira la curva Io Le palle curve ogni volta mi fanno venire Il coccolone ogni po' Prossimo Prossimo Si cambia Eh Prossima volta Prossimo Cosa si significa Cambia tiratore Eh Ok Questo Hanno cambiato Il lanciatore Foul Va bene Hanno cambiato il lanciatore Loro Ok Prima eliminato Ok Presa Eh Però Ciao Eliminazione Proprio serena Tranquilla Serenamente Proprio Eliminazione Dice Fa slide Va bene Ok Va bene Questa mi sembrava esternissima Va bene E questa Mi sembrava più esterna Quella di prima Che questa Va bene Ah Ho fatto comunque bene A batterla Però Ne no L'ho fatto Vabbè Però l'ho fatta male Ball Ok Ok Va bene Va bene Vabbè 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 No Bullpen 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 Hudson Ti si è scardato abbastanza Put the game Vai Hudson Vai Hudson Strai che uno E' molto semplice Ma un po' tranquillo Ma un po' tranquillo Sì Però un po' di forza Più alta Vai Vai Hudson Credo in te Hudson Hudson Perché mi hai cambiato Perché mi hai cambiato Vabbè Io non capisco perché mi ha cambiato Il cursore Ma vabbè Vai Hudson Vai che tua Sereno Sereno Serenamente A posto Benissimo Prima eliminato A posto Strai che uno 79 di overhaul Sta lanciando da dio Strai che due 79 di overhaul Slider lì No Lì Va bene Lo stesso Sta lanciando da dio 79 Quello che era 94 Quello che era 94 Le tirava ovunque Tranne dove doveva Vabbè Che anche questo C'è un po' di deviazioni Però Strai che uno Poi Change up Dicini la La Ok La Vabbè Hai guadagnato due batti Ma va bene Vabbè Vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Ora Slider la Slider Strai che uno Avanti Vai Hudson La La No Slider Slider Ma si Per ora Hudson Per ora Un attimo Di Un attimo Strai che due Benissimo Un attimo Strai che chiudiamo Sto E la Chiudiamo Un attimo Strai che la Chiudiamo Un attimo Strai Ma Fa niente Un attimo Strai che la Chiudiamo Continua Sempre Fast Coso Strike E la Chiudiamo Bene Bravo Hudson Ha lanciato D'adio 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 Ha lanciato In maniera Meravigliosa Floro Attenzione Lancia Floro Lancia Floro Lancia Il giugolato Imperamenti Era Ball Era Ball Era Ball Calma Ok Calma Devo stare Devo stare Devo stare Ball Ok Sembrava Molto più esterna Più alto E più esterna Questa Anestamente Bene Ok Terzo Ball Ok Dai La Ball Questa La Ball Anche Questa La Ball Anche Questa Ok Ball Grazie Grazie Floro E c'ho In prima Base Tina Tar C'ho Tina In prima Base Dai Ok Nera Ball Nera Ball Nera Ball Oddio Una In Johnny Strike Non l'ha Tirata Quegli strike Tutti Quei strike Avuti Io Questa Stavolta Stavolta Va però Troppo Troppo Tari Vero Ok 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 Bello Anche qua Mi ha fregato Pensavo fosse Vabbè Un eliminato Dai Andiamo Eh Ok Ball Salvo Non fa scherzi Eh Bravo Bravo Tina Dai Tina Presa Bellissima Bellissima Tina 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 Vai a punto Tina Tina vai a punto Tina Tina vai a punto 3 a 1 Dai Una partita così Tirata A un punto In più Fa sempre Comodo Va bene Va bene Va bene Allora Ok Dai Gnonna 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 Suzuki 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 Il secondo strike Che gli regalo Va bene Sì Sì Io ho regalato Tre strike Gli ho regalati Così Ad Muzum Va bene Ok Ball Ok Bene Secondo ball Ok Ok Vabbè Ok Ok Just Presa Bella Eh sì Però No Non a volo Non a volo Prima e seconda base Ok Bene Bene No Non voglio Usare No Non voglio Vai Fammi Battere No Vabbè E Basta Io Io Sè Che Sono così Scemo Era Ball Di Tre Metri Presa Brava Hudson Bella Battuta Bella Bella 4-1 Nice Ok Ok Cambia Cambia nel lanciatore Tra l'altro Va bene Dai Ok Presa Eeeh Va bene Va bene Va bene Fa niente Va bene Comunque Abbiamo fatto due punticini In questo Questo inning 4-1 C'è Buon vantaggio C'è Vediamo di non Di non sciuparlo Strike 1 Bravo Bravo Hudson Sbagliato Sì Va bene Ragazzi Però Dobbiamo essere anche seri Però Io Da Quattro Ciao Eh Sì Ciao 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 Tre Basi Abbiamo fatto Fa questo Perché avevo Ricevitori Che Senza Che Non Senza La capacità Di intendere Di volere Strike 1 Ok Arrivano le ambulanze Son per me Stanno venendo A prendermi Eeeh Hudson No Ho sbagliato Non so Non ho visto Nel c'è Dove mi ha Suggerito Fall Come strike Va benissimo Mi dice lì Eeeh Ok Eeeh Nel Ok Sì Vabbè Domani 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 Eeeh Ah Come se la prendono con calma questa cosa mi dà fastidio Ma è bullpen Do little Toh Nel frattempo che si fanno anche chiacchierata con gli animali Gli skull Allora Fast Furious Strike 1 Slider La Ecco No comunque Prima eliminato Nel Nel Come strike Va bene lo stesso Ok No Tu ha Sereno Sereno Che tu ha Oh No Due Sì Ciao Comunque Eeeh Eeeh Strike 1 Eeeh Le Strike 2 Eeeh Poi Le Le La Pup Ma Siete Lenti Ma Siete Lenti Nel lanciare la palla Siete Lenti Quanto Siete Lenti Quanto Siete Lenti Adson Aspetta Dai Sereno Sereno Dai Serenamente A post Boh Han fatto un punto Praticamente gliel'abbiamo regalato Perché gliel'abbiamo Left field Non so Un altro Hanno un altro lanciatore Non sanno chi Non sanno chi far lanciare Va bene Ok Vediamo a vedere Boll Va bene Forte tira il ragazzotto Va bene Ok Presa Va bene Va bene Va bene Va bene Poi Ok Qua Mamma mia Che roba brutta Che roba brutta Va bene E questa è la strike E la strike Ha fatto bene Ha tira la strike Ma c'hai la mamma Vabbè Ok Ok Presa Questa è la pure strike Questa è la pure strike Ragazzi Bene E questa è la bolle invece Ah vabbè Non tiene un tirare Questa è la tira Presa Eh Bene Bene Non andà Non si deve fare l'unica per forza Perché non ti stavi in prima base Pezzo di deficiente Pezzo di deficiente E siamo a fare così Che ogni punto può essere buono E farli tirare E farli dire No Deve andare per forza Il cretino deve andare per forza Vabbè Vai durita Oh beh Ti sei rilassato Ti sei fatto le tue belle Chiacchierate Con Con gli animali Eh Eh No Sembrava Al volo Niente Penso Eh Strike E tre Perfetto Dai signori Strike E uno Ok E là Come fosse strike Va bene Eeeh No 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 Dai Io vado Io vado Dettamente Per Dai Eeeh Eeeh Strike Eeeh Strike Eeeh Va bene Ai 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 Eeeh Come strike Va bene Lo stesso Slider Strike E tre Dai Dai Ultimo eliminato E andiamo a casa Signori Ultimo eliminato E andiamo a casa Dai Strike E uno Italia Mamma mia Do little Do little Do little Il tetto Ogni tanto C'hai I momenti Tuoi Eh La Fa 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 Però Avrebbe stato bello Poterci arrivare Ma niente Ok Eeeh No L'ultimo strike L'ultimo strike Andiamo a casa L'ultimo strike Andiamo a casa L'ultimo strike Andiamo a casa 4 a 2 Eale Va bene Va bene Sta vittoria ci voleva Questa Questa vittoria ci voleva Bene così Assolutamente Bene così Assolutamente bene così Va bene Ora io Devo correre Assolutamente Devo correre Eeeh Che Cappare Eccetera Fatta la partita Cosa Non 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 me ne frega niente Io Non ci capisco nulla Non me ne frega niente Signori Detto questo Io direi che Intanto potrei Advance Si E Prossima partita Contro Ah no I mariners Sono i Loro Sono i mariners No Quelli Marlins Questi sono i mariners Ok comunque Eeeh Quelli che affrontano Sono i Seattle Bene Signori Eeeh Detto questo Molto semplicemente Saluto tutti quanti voi E alla prossima Ciao